Mantenere vivo il territorio e la memoria dei grandi del passato, è questo lo spirito con cui è stata organizzata la manifestazione storica rievocativa in onore di Pietro Micca il 18 settembre a Saliano Micca e a Biella. Un evento che nasce dalla volontà di valorizzare le ricchezze del nostro biellese, in questo caso di squisito carattere storico. Fondamentale è stato l'interessamento personale del Presidente del Consiglio regionale all'Asia che si è messo in gioco per ottenere fondi concreti per consentire la realizzazione dell'evento, che peraltro verrà inserito sotto leggi da UNESCO. Domenica 18 settembre, quindi alle ore 10.30, da Palazzo Ferrero a Palazzo Cisterna, al piazzo sfileranno il gruppo storico Pietro Micca, i Dragoni Rossi della Marsaglia e il reggimento Saluzzo, mentre dopo pranzo, previsto al centro polivalente di Saliano Micca, nella piazza Pietro Micca di Saliano si terrà alle 15.30 la rievocazione della battaglia storica a ranghi contrapposti, previo o dovuto omaggio alla casa natale di Pietro Micca. Al termine della manifestazione verrà reso onore alla lapide del generale Guido Amoretti. La scelta della piazza Pietro Micca per la rievocazione valorizza e rende vivo il monumento all'eroe biellese inaugurato il 29 agosto 1880 da re Umberto I. Per tutta la giornata di domenica sarà inoltre possibile visitare la casa natale di Pietro Micca, che conserva le memorie del combattente biellese morto da eroe a Torino. Presente e passato un intreccio profondo o inestricabile che alimenta il cuore pulsante del nostro amato biellese.